Il capricorno è un segno che fa tendere al celibato, perché troppo riservato ed egoista per una vita coniugale. Anche fuori del matrimonio sarà portato ad una vita di coppia volta al possesso, non sarà quindi in grado di dare tenerezza né calore. Tra la gente tenderà ad esibire, come biglietto da visita, la sua ricchezza, vera o presunta. Convinto che questo biglietto da visita lo possa aiutare di fronte alle persone più in vista di lui e che ambisce raggiungere. L'ambizione di raggiungere vetti sociali è sempre in ogni caso presente in questo segno ed obbedisce a due forti imperativi, orgoglio e sete di potere. La donna del capricorno è simile all'uomo. Ne esistono di due tipi. Coloro che appaiono fredde di fronte all'amore, pur avendo bisogno di molta dolcezza, e all'opposto coloro che sanno essere profondamente sensuali e realmente disinibite, anche se queste ultime sono dei casi limite. Vanno lo stesso citate. Esistono donne che tendono ad un comportamento calcolatore ed immorale. L'importante è che il partner sia danoroso e munifico, mentre loro, come detto, difficilmente donano. E non solo affettivamente. Queste non esiteranno a lasciare il partner qualora ne incontrino uno più ricco.